Ragazzi uri belli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video, anche oggi video di Fortnite ma questa volta con un intro un po' diversa. Questo perché come avrete sicuramente notato alla mia destra ho un gioiellino che mi è stato spedito in anteprima da Mamma Rogue. Stiamo parlando ragazzi di questo notebook che appunto è il Rogue Zephyrus S17, un notebook adattissimo sia per chi vuole giocare ai videogiochi ma anche per chi magari vuole lavorare da computer o per esempio appunto magari anche per i content creator. Quindi ragazzi è un portatile adatto per tutti quanti ed è spaziale. Parliamo delle componentistiche del computer? Secondo me non siete pronti ragazzi perché le prestazioni di questo computer sono veramente assurde. Inizio con il parlare del processore che ha questo portatile che è appunto un Intel i9 di undicesima generazione, ha anche una scheda video RTX 3080 che non ve lo so neanche a dire ragazzi ovviamente gli fps che si hanno con questa scheda video e con questo processore all'interno di un gioco veramente strabiliante. Le prestazioni sono al massimo, è velocissimo e la grafica è assolutamente spaziale. Per quanto riguarda invece questo schermo appunto è un 17 pollici e la configurazione di questo portatile quindi il Rogue Zephyrus S17, questo portatile che ho adesso in questo momento io, è un monitor che gira a 165 Hz e 3 secondi di latenza. Quindi per il gaming è a dir poco assurdo. Una specifica molto importante di questo notebook che ovviamente ragazzi come sapete il problema maggiore dei vari computer diciamo portatili quindi notebook o portatili da gaming è quello della temperatura. In genere le temperature tendono ad essere molto molto alte ma questo problema con questo modello di portatile assolutamente non esiste perché ve lo spiego subito. Vi mostro ragazzi la tastiera che come potete notare nella parte laterale è rialzata. Qui ragazzi vi do una dimostrazione come potete vedere la tastiera qua appunto è rialzata e se vado comunque ad utilizzare la tastiera del notebook è appunto completamente immobile. Non si muove di una singola virgola. Questo perché permette al computer di avere un flusso di aria diciamo migliore e quindi va proprio a massimizzare le temperature e va ad abbassare le temperature di gran lunga per permettere comunque al notebook di avere delle temperature molto basse e di essere sempre super performante e prestante. Ma la particolarità più importante di questo notebook è che è al di sotto dei due centimetri che per un notebook da gaming è un qualcosa che è assolutamente strabiliante quindi ha veramente tutte le caratteristiche speciali e specifiche per giocare a livelli e delle prestazioni super elevate ma come ho detto all'inizio dell'intro comunque anche per chi magari vuole lavorare da computer come appunto content creator influencer che necessitano di utilizzare un computer appunto per lavorare. Questo computer ragazzi dispone anche dei migliori altoparlanti al mondo all'interno ha sei altoparlanti buffer con force cancelling in batteria smart amp in dolby atmos io ho avuto modo appunto di ascoltare anche delle canzoni su questo notebook o anche di ascoltare l'audio all'interno di un gioco quindi senza cuffie ma utilizzando gli altoparlanti del computer e ragazzi l'audio è veramente dettagliato ed è super immersivo quindi è veramente spaziale ragazzi mi sono innamorata di questo portatile a un livello veramente estremo. Poi ovviamente lo sapete tastiere RGB quindi maggiori FPS già sapete comunque per noi gamer l'RGB è assolutamente importante e quindi niente ragazzi io vi lascio qui sotto in descrizione su questo video il link che vi riporta direttamente al sito originale vedere magari delle specifiche tecniche un pochino più dettagliate in renti a questo modello di questo portatile come ho detto all'inizio è in anteprima quindi ancora non è disponibile in Italia ma vi assicuro che ne vale la pena attenderlo perché è veramente una bestia. Mamma ROG sa sempre come distinguersi dagli altri brand ormai è un dato di fatto ragazzi e voi lo sapete perché ormai mi seguite da tanti anni sapete che ogni cosa che fa parte della mia postazione quindi della mia scrivania è tutto brandizzato ROG perché è assolutamente qualità al massimo. Ma adesso ragazzi detto questo passiamo al video e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Una buona visione ragazzi! Mamma mia Sei tro... io t'ho scusso un po' male. Morti due? Trova bene Indovina chi ha sceso... chi ha scelto il piano dove non c'è neanche un arco? Io un po' per te però dieni da me. Sì io ce l'ho per te. Mario Ho due R Minchia mi sento un minco. Morto un altro? Ecco ti. Tieni. Morto un altro? Sei troppo più forte. Sei un vero demone. Eccolo qua al bezzo. Guarda me. Morto. Vado a prendere il mini da sopra. Niente qua sotto? Sei colpito. E' impiazzato? Ma non sei tu. Morto? E' a una cap... E' white ora. A 60. E' ancora gente. Incredibile. No way dude. Sono qua al campetto di c***o. Cado? No cado uno. 49 mi ha... Il bianco testo. Siamo 49 bianco. Tuomate proprio le pompe rasponi. 18 wide. Fatto. Un altro team. 33 blu. Cado? Un altro team ancora. Amore non ho vita. Sono morta. Sono morto. Amore. Sì, segui. Sì, segui. Ho fatto il medikit. Ci sono tre persone sotto di noi. Tre. Mi lascio il medikit. Al divertimento dietro. Hai shield amore? Sì. Ok, sono due questi qua. Due player. Sanica. 104. No cado, no cado, no cado, no cado. Qualc'è un altro? Dove è? Lo so, lo so amore. 100. Ok, fatto. Morti. Oddio. Ma io... Ma io c'erano 11, eh. Appunto. Ma io sono un demone. Andiamo, 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 andiamo. Fucking demon. Oh, mi sparano, picca. Ancora? Picca da me. Arrivo. Due? Lo so, sei, sei, salva finché puoi. Sali, sali, sali. Caranca piuttosto, caranca, caranca. 33 blu. Alla tizia con le palle rosa in faccia. Mi hanno distrutta, mi hanno assaltata. Fatta, 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 fatta. La dinamo. Uno da me. Vi faccio un big e arrivo. Calma, calma, calma. 40. Fatta, fatta, fatta. Lo vedo arrabbiato, non so perché questo. No, c'è gente... 200 qui in questo. Va bene, io mi sto, si colpi. Sì, stanno apretando. Ok, si aveva quel team lì, allora. Ti cecchino, amore, amore. Amore, non sarei così nobile, però. Minchia, sei sentata così. Porca, mi stara. Tranquilla, tranquilla. Uno lo ha... Ah, non lo spassa. Ah, non lo spassa. Lo ha fatto a me. Ehi! Mi sono stati due. Quanto ha fatto? Qua, giù. 123. Ho lasciato, ho lasciato, amore, te lo fai. Prendi il muro, prendi il muro, prendi il muro. L'ho preso? Eh. Nice. C'è la safe? Ok, dobbiamo affetarli. Però aspetta, no, sono due team, ma non vorrei... Siamo di safe tilto. Se ci sono problemi padda, eh. Se ci sono problemi padda. Qua sotto? Vado a rimpiazzare un attimo. È uscito, infatti, è qua. Accato? Accato? Ma in chiaro, non c'è volo. C'è lo spasso per te? Ed è ora anche? Qua ti scelto, non hai? Prendi in volo, prendi in volo, prendi in volo. Quanti sceltoni hai? Uno. Ok, prendi i miei due sceltoni e prendi i flopper, vai. Padda poi. Davanti a me c'è uno. 41. Brava. Tra l'altro occhio. Un altro team. Un altro team o un amico? Non so se è l'amico o un altro team. Ah, l'amico ci va palestamente contro. 105. All'amico. All'amico. Quanto aggressi. Occhio a tutto l'oro lì. Morto? Morto. Ma che l'ho fatto insieme, che bello. Cioè il knock neanche l'ho visto praticamente. Anch'io? Io zero proprio. Ma veramente? Ok, qua, 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 qua. Bisogna farci lì? Aspetta, 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 aspetta. Chill però. C'ho l'arma a scarica, non ci credo. Ho schiappolo sopra anche. Dopo trentato quello sopra Nike. E allo spara band. Alla dietro qui non c'è nessuna però. Però l'ho usato, quindi... Tut, tut, tut. Nonca da dietro, nonca da dietro, anche da dietro. Boxe che basta, boxe che basta, boxe che basta. Però voglio fare le 20 bombe, mannaggia. Eh, non c'erai lo spara, vero? Sono fightando, ma io prenderei Aigen e ci facciamo tutte queste kill qua. Ma sicuramente che fai, io non so che sì. Qua, 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 qua. Knockato, knockato, knockato. Demone. Passano, passano, passano. Traccato, watch out. Minchia, non l'ho preso. Lo chiedo, io lo chiedo, tranquilla. Ma è che cosa ha fatto lì? Amo, occhio a questi qua della Babilonia, muore attento. Mi sparano da là. Mi ha impazzato? Ma ha scichinato un altro. Stripa 16. Muore un attimo, ma ci chiedo. Tranquilla, tranquilla. No, non sto, non sto fai dando. Venga a fare, venga a fare lo spara, ferma. Ok. Ecco che arrivano qui gli altri. Vieni qua. Minchia, non sto mettendo un colpo e l'ho messo a me. No, c'era l'auto. Questi qua sotto vanno fatti. Vai. Tu vuoi arrivo? Vieni con te. No. Ok, quindi c'è anche quel simile. Ci padano? Ah, la padano loro. Cento cinque. A quello là. Quello che si sparava. Qua dentro. E' 28 white. 28 white. Parto, noccato. Eh, ma... Oh, por... No, mi sono... Dammi uno scildone se ce l'hai. Amore, però qua c'è uno noccato. Possiamo prenderlo. Lo so, amore mio, ma... Devo farmi il big, amore. Lo so, amore. Devo farmi il big. Mi ha fatto male, però non lo faccio restare. Vai, strucca. Madonna, ma... 108. Ci paviene jumpare. Ce l'hai? Io ce l'ho. Tu vieni qua. Andiamo subito. Via. Vediamo. Vediamo, hai qua, che dici? Sì, ma ti dico di più. Io butto l'SMG, amore. Ci guarda tutto quello che vola. Sì, mi scerano anche gli altri, però. C'è uno alla mia destra. Brava. Noccato, noccato. Andiamo. La finisco così ti curo. E' l'altro qua. Vittato, 22. Traccato. Fatto, fatto, fatto. Jumpa, no? 29. Alla Dynamo. Occhio all'altro, c'è fino a 4. 68, blu. Inelciata, quello lì in fondo. Questi che arrivano, invece, di Dynamo. Lo noto. Guarda tu in testa, quello lì. Alla Mitro Dynamo, che cazzo, si facciamo? Sto guardando l'altro. 35, blu. Alla Dynamo. E' terra? No. 52, blu. Alla Dynamo di nuovo. Craccata. Infatti, mi preoccupa, più quello. Adonno, cazzo sotto. Mamma mia, mi qui. Eh, amore, attento però come lo pusci, tanto non può restarlo, eh. Ok, brava. Vengo su, ritorno su, chi c'è? Quanto vuoi restare di qua, in realtà? 52, blu. Craccata, lasciami questa qua da me. Va bene. Morti mio. Ok, deve arrivare solo l'altro. Lasciami, 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 lasciami. Vai, vai, fatti ritieni se vuoi. Ode, ode a te porto. Vai, 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 io sto ferma, eh, non mi spara. Vado sulla mano. Perfetto, posso. Sì, no, 20 bombi non l'ho fatta, raga, ma l'abbiamo fatta una fracca. Giuro, ne abbiamo fatta 27, se non sbaglio 28. GG. Che game della madonna, chicca.